Al servizio entra Matt Anderson. Attenzione, un match point ancora per la Lupe, ma c'è Sebastien Solé al servizio. L'argentino verso Lucarelli. Primo tempo di Simon, murato però dalla formazione di Perugia. Primo tempo di Simon e la vittoria arriva per la formazione. Ha chiamato un check. Calme tutti, calme tutti. Fermi tutti. Si finisce con... Calme. Fermi tutti con calma. Allora, no, no, Plegini. Plegini, tu sei al tuo posto però. Ok, grazie. Ok, ok. No, ha spinto dopo l'azione di gioco. Ha spinto dopo l'azione di gioco. La partita è finita. Non vale la richiesta di check. Da parte di Nikola Gerbic, la formazione di la Lupe dopo una battaglia veramente lunghissima, sofferta tra due grandissime squadre, vince il match di gara 1. Eccolo qua, abbiamo rivisto l'ultima situazione. Non è stata chiamata immediatamente per bloccare l'azione. La richiesta di video check sulla probabile invasione aerea di Luciano De Cecco. E quindi il video check può essere chiamato solo sull'ultima azione stessa. Grazie. Grazie. Grazie.